Siamo stati benissimo, è stata una serata fantastica, è stato splendido poter suonare per voi. Un applauso anche ai servi dei due padroni che hanno suonato prima di noi. Dillo al microfono magari che cosa ti sento. Un applauso anche ai servi dei due padroni che hanno suonato prima di noi. Un applauso grande a tutti i nanoroskills partendo dal calabrone più invidiato del metal. L'ineffabile Wirona Ryder. Il pantacollant che tutte le donne ci invidiano. L'incredibile balsista turgidissimo. Il capitano Lecciucce. Il parruccomane palestrato, potente e morbido al tempo stesso. L'incredibile Mr. Maffo. Il formidabile che potrebbe essere scambiato per un clitoride coi baffi. Il semprevergine poto vuoto minibag. Alle voci. E poi Dio. Mohamed Abdul alla chitarra. Io vorrei fare un applauso anche per Gattopanceri 666 che non è qui ma che è con noi nel cuore. E un ultimo applauso anche al sergente Sabbia alla console senza il quale non avremmo il playback. Bene allora è arrivato veramente il momento di salutarci. Ma vi suoneremo un'ultima canzone faccio finta di non aver sentito quello che hai detto strozzo. E un applauso a il Signore. Signore! 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 Signore morbido. Allora, è bellissimo essere qui in una città così antica dalle origini medioevali, ma che dico, feudali!